Un anno e mezzo di tempo per riqualificare l'area produttiva di ospedaletto a Pisa è quanto prevede il protocollo d'intesa firmato a Firenze fra l'assessore regionale alle attività produttive Stefano Sciuoffo e il sindaco di Pisa Michele Conti e dai rappresentanti dell'Unione Industriale Pisana, della locale Camera di Commercio di CNA, Confcommercio e Confesercenti e dagli ordini degli architetti e dagli ingegneri della provincia di Pisa. Obiettivo dell'intesa è rafforzare la competitività dell'area consolidando il sistema produttivo e attraendo nuovi investitori. Ci sarà con questo protocollo l'avvio di un percorso di progettazione, vedremo quali saranno le proposte che emergeranno, l'Unione Industriale ha già fatto studi sulla mobilità, credo che quello sarà il tema principale sul quale dovremo intervenire, riconnettere, riuscire, riadeguare, far sì che quell'area così baricentrica possa diventare davvero l'elemento portante di un'azione propositiva sulle politiche industriali di quell'area. Sarà il Comune di Pisa a predisporre una proposta di massima con gli interventi pubblici e privati. Il documento firmato oggi scadrà il 31 dicembre 2020.